Con stupore i sindaci della provincia, ieri chiamati a raccolta Palazzo Zanca credendo di chiudere la partita Masterplan e organizzare il prossimo incontro a Roma con i responsabili del Patto per il Sud, hanno accolto la cattiva notizia di una cospicua riduzione dei fondi disponibili. Messina credeva di poter contare su circa un miliardo fino a 2020 e invece le risorse complessive ammontano a circa un terzo. Tutto da rifare rinunciando a quel libro dei sogni che era diventato il Masterplan e da adesso con minori fondi a disposizione saranno ancora più cesi gli scontri tra gli amministratori. Già ieri ma anche in precedenza prima ancora di apprendere la notizia della riduzione alcuni sindaci avevano utilizzato parole durissime sulla vicenda Masterplan evidenziando che molti progetti inseriti nel pacchetto 2016-2017 non fossero immediatamente cantierabili né avessero un respiro metropolitano e proprio la necessità di quest'ultimo requisito è stata evidenziata anche nella comunicazione del sottosegretario De Vincenti. Le opere da finanziare devono interessare a avere ricadute su tutti i comuni della provincia altrimenti non potranno essere prese in considerazione.